La magia che mi porta a fare tutto quello che faccio è indubbiamente la passione, perché se non fossi un'appassionata del mio lavoro e non mi divertissi da morire, non lo farei, non accetterei nulla di quello che mi viene proposto, perché soffrire. E poi questo è il fatto che mi diverto tantissimo, sono felice di potermi esprimere, non in qualsiasi campo, però l'idea di potermi rinnovare passando dalla musica alla conduzione, a chi lo sa, alla scrittura, alla recitazione, insomma, sento di rigenerarmi continuamente e in questo modo non mi annoio mai. Sicuramente la voglia di fare, è importantissimo avere molta fame, sete di sapere, di conoscere, di rapportarsi agli altri, e anche la consapevolezza è molto importante, la consapevolezza di sapere che è un mondo comunque molto competitivo, quindi che le porte purtroppo si chiudono molto velocemente, in modo anche molto brusco, ma l'importante è non demordere, continuare a seminare, 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 perché i risultati poi, volente o non volente, arrivano. Il mio cartone magico, oddio, ce n'ho tantissimi, però sono particolarmente affezionata alle follie dell'imperatore. Carissima. Grazie a tutti.